Il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha visitato il centro di accoglienza per migranti ospitato dalla parrocchia di Vicofaro a Pistoia dopo la notifica di sospensione dell'attività di accoglienza per la necessità di adeguare alcuni locali comunicata dallo stesso parroco Don Massimo Biancalani. A Don Biancalani, da tempo al centro di polemiche e minacce, Rossi ha espresso la propria vicinanza dopo anche i recenti episodi di intolleranza nei confronti di un ospite a cui è stato sparato con una pistola scacciacani a poca distanza dal centro e ha chiesto al governo che la gestione dei centri di accoglienza torni in capo alle regioni. Io sono qui perché voglio esprimere vicinanza, le regole devono essere rispettate ci adopereremo con più intensità ancora di quanto non abbiamo fatto attraverso le asle su tutta la regione toscana perché il trattamento deve essere equo per tutti su strutture che ripeto sono state individuate dalle prefetture Il modello di accoglienza toscano era quello del 2011, era diverso da questo L'accoglienza è un dovere e va fatta con senso di umanità e rispetto delle regole un concetto ribadito al termine dell'incontro con Don Biancalani che ha spiegato le difficoltà di gestione di un centro che non ha scopo di lucro come quello di Vicofaro dopo la sospensione dell'attività Questo secondo intervento di fatto viene a bloccare una parrocchia perché è stato fatto sui locali restanti dove io sto facendo quello che dovrebbero fare tutte le parrocchie cioè accogliere poveri perché non abbiamo soltanto migranti abbiamo anche 10 persone senza fissa dimora e quindi questo mette e viene a limitare quella che è poi alla fine l'azione libera e necessaria di una comunità parrocchiale Nel corso dell'incontro è stato anche comunicato un conto corrente per chi volesse contribuire all'adeguamento delle opere del centro Abbiamo fatto il conto numero 3000 la banca e la cariquit qui della filiale del Viale Adwa